Nelle scorse settimane Genuino mi ha dato l'opportunità di parlare con un giocatore della Fiorentina, dopo scoprirete di chi si tratta. Come vedete qui sotto che vi lascio lo screen, ho parlato con Milenkovic. È stata davvero una chiacchierata interessante, infatti abbiamo parlato di qualsiasi cosa, del calcio proprio tutto tondo. Ma sapete qual è la cosa più divertente, più particolare? È che qualche giorno dopo mi sono andata a Bergamo a vedere Atalanta-Fiorentina. E guarda un po', ho proprio incontrato Nicola Milenkovic, che non aveva giocato perché comunque era ancora infortunato, però vi lascio qua la foto.